Da lontano 1982, Opel Corsa ha riempito le strade delle città europee affermando il successo di una delle compatte più famose. Ora sono passati 40 anni e 6 generazioni che hanno visto questo modello crescere in stile, qualità e tecnologia, mantenendo invariati i valori che hanno spinto Opel a proporre una compatta pop. Una celebrazione quindi della storia di Corsa e più in generale di Opel, legate indissolubilmente. Si chiama 40 Years ed è un'edizione speciale, limitata in 1982 esemplari e riservabile unicamente tramite sito online. Originalità e voglia di emergere di questo allestimento le si nota fin dal primo sguardo a quel recol red che dipinge la carrozzeria, un colore appositamente studiato per ricreare la tonalità della prima corsa. La modernità arriva poi con l'accostamento cromatico dei dettagli in tinta nera, come il tetto ed i cerchi. Forse anche più caratterizzato è l'ambiente interno, con il punto forte nelle sedute. Rivestite in tartan, quest'ultime riprendono la storia della versione originale, con una trama scozzese di sicuro effetto visivo. Nel resto dell'abitacolo troviamo il massimo disponibile nella gamma Corsa, definendola come una vera full optional, sia per quanto riguarda comfort che sicurezza. Piccolo dettaglio di sicuro apprezzamento è il badge celebrativo sulla plancia che identifica anche il numero del modello. Che sia benzina o elettrica, per gli appassionati del modello questa versione limitata è sicuramente la corsa da non farsi scappare per portarsi a casa un pezzo di storia Opel.